Sono stati davvero numerosi coloro che hanno risposto all'appello della CGL per incontrarsi e ricordare la figura di Umberto Domini a poco più di un mese dalla scomparsa del dirigente sindacale in una sala stracolma di persone che si sono ammassati in piedi fin quasi sulle scale sono state ripercorse praticamente tutte le battaglie collettive che il territorio ha vissuto nell'ultimo mezzo secolo. È detto bene per ricordare un grande uomo, una persona che possiamo sicuramente dire che ha dedicato più di 60 anni della sua vita all'attività politica e sindacale e noi ci rendiamo conto qui ad Agropoli di avere un'eredità pesante per così dire da portare avanti proprio perché il compagno Domini ha dato tanto non solo all'organizzazione sindacale ma anche alla cittadina di Agropoli e anche al Cilento proprio per le tante battaglie che ha sostenuto in difesa dei lavoratori in difesa dei pensionati e comunque lì dove c'era sempre qualcosa da fare lui era presente. Noi siamo molto emozionati stasera perché non averlo tra di noi è purtroppo una novità eravamo abituati ad avere Umberto in ogni iniziativa politica, sindacale, culturale e anche civile per cui non averlo qui stasera è una grande emozione oltre che un grande dolore per la perdita di un compagno così valido. Però noi vogliamo andare avanti proprio perché pensiamo che la memoria non debba rimanere fine a se stessa noi pensiamo che l'unico modo per ricordare quello che ha fatto Umberto, le tante battaglie e anche le conquiste che siamo riusciti ad ottenere e i valori che lui ha portato avanti noi crediamo che l'unico modo per continuare a ricordarlo è far sì che la Cigelle di Agropoli continui ad essere un punto di riferimento per i lavoratori, per i pensionati, per i cittadini per tutte le persone che hanno bisogno, per tutte le persone deboli, per tutte le persone che hanno bisogno di vedere risolto qualsiasi problema di natura sociale, economica o anche esistenziale. Questo è il nostro augurio, il nostro auspicio, quello di continuare nel suo nome le tante battaglie che sono state fatte qui ad Agropoli e nel Cilento.